Oggi vi faccio vedere alcuni spirali. Ciao a tutti, sono Carnia con la cappa e la più grande passione è la ginnastica. Oggi vi faccio vedere alcuni spirali. Prendiamo bene la nostra bacchetta e adesso da qui dobbiamo fare dei giri con la mano sul pavimento. Così quando abbiamo visto che si fanno dei due giri iniziamo a girare anche noi. Facciamo due giri e poi ci prendiamo. Facciamo due giri con la destra e due con la finistra. Pronti e così, lato e uno e due. Con l'altra, giro, uno e due. Adesso facciamo lo stesso ma in dentro. Così, lato e uno e due. Con l'altra, giro, uno e due. Adesso mettiamo il braccio un po' più su della spalla e la bacchetta leggermente giù. Da qui facciamo degli spirali. Dobbiamo qui cercare di fare più giri possibile. Tre o quattro. E facciamo 10 e uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Cambiamo. E uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Adesso cambiamo con la mano. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Cambiamo la mano. E uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Adesso invece mettiamo il braccio normale. Dobbiamo mettere la mano che guarda indietro e viviamo leggermente il volto. E da qui facciamo gli spirali e noi giriamo. Così facciamo due giri con la destra e con la sinistra. E uno e due. con l'altra. Uno e due. Adesso facciamo un giro grande, tra quattro genito e una bacchetta e sfiliamo la bacchetta. E facciamo così cinque volte, con la destra e con la sinistra. una e uno, due, tre, quattro e cinque. Adesso mettiamo il braccio dietro la schiena, che è la bacchetta del nastro e da qui facciamo dei piccoli giri. Così. Facciamo così dieci volte, con il braccio su accanto all'orecchio. E uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Adesso mettiamo insieme tutti gli spirali che abbiamo imparato. Il primo è quello, quello giù per esterna. Così. Facciamo un giro. Poi quello in sopra. Facciamo un giro. Poi facciamo un grande piccolo schieno e dietro la schiena. facciamo così una volta con la destra e una volta con la sinistra. E giù, su, qui con gli spirali e dietro la schiena. Con l'altra. E giù, su, qui con gli spirali e dietro la schiena. Per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale. E se volete lasciarmi un commentino, fatelo sulla mia pagina Instagram. Mi chiamo Yacolina con la K. Ciao!